Già l'86% dei ragazzi in età da 3 a 6 anni si reca alla scuola materna, alla scuola dell'infanzia. Io credo che sia corretto, come ha detto anche Letta, rendere questo un obbligo in modo che lo Stato intervenga a garantire un diritto. E penso anche che sia corretto estendere l'obbligo scolastico da 16 a 18 anni. Siamo nel mondo della conoscenza, è dimostrato prima di tutto che se si va a scuola prima si diventa più bravi ad apprendere, si hanno più successi scolastici e anche professionali e quindi è ben andare alla scuola materna fin da subito. È dimostrato che avere una scuola più lunga, almeno fino a 18 anni, prepara lavoratori e cittadini che sono più in grado di affrontare la complessità del mondo di oggi. Destra e sinistra si sono sempre divisi su questo tema perché si tratta di un tema che riguarda l'eguaglianza e la destra questo valore dell'eguaglianza lo sente meno. Preferisce piuttosto pagare un insegnante privato, preferisce mandare quando può i figli a scuola all'estero o nelle scuole che si stanno sviluppando a pagamento perché intende mantenere sempre una distanza tra chi può di più perché è più ricco e chi ha di meno e non può accedere a questi livelli di insegnamento.